come sfruttare lo strumento del business plan e quindi chiamo qui in diretta la collega Elga Fazione ciao Matteo e benvenuti a tutti gli amici di Imprenditore del Futuro bene, benvenuta, Elga si sta collegando dalla sede di Verona cercheremo di capire come in realtà questo strumento può essere innanzitutto alla portata di tutti e qual è la sua utilità e quindi ti chiedo innanzitutto ti faccio subito tre domande prima cosa, cosa significa, che cos'è questo strumento seconda domanda, che obiettivo ha, quale scopo ha il business plan e terza domanda, come si usa, cioè da dove si parte allora grazie Matteo innanzitutto per aver introdotto l'argomento allora il business plan pur essendo un termine molto inglese in qualche modo è noto agli addetti ai lavori della serie qualsiasi tipo di azienda dalla più grande alla più piccola in qualche modo ha dovuto confrontarsi con la stesura o la redazione di un business plan quello che spesso non sappiamo è quali sono gli elementi cardine all'interno di questo business plan e perché questo business plan come ci ricordava ieri Christian sia efficiente, efficace e produttivo il business plan è un documento, è un documento misto dove c'è una parte descrittiva che riguarda l'azienda una parte descrittiva che riguarda il business che l'imprenditore o colui che ha l'idea oppure anche un team di persone intendono portare avanti e la parte, quella più chiamiamolo così nota e più importante che è quella della pianificazione economica finanziaria e tutta una serie di prospetti che poi sono utili alla finalità e allo scopo del business plan il business plan può avere diversi scopi e diverse motivazioni allora un business può essere un nuovo business quindi può nascere all'interno di un'azienda già strutturata oppure può nascere in un ambito cosiddetto di start up può essere redatto in un momento in cui l'azienda sta mettendo in piedi delle operazioni straordinarie quindi scissioni, fusioni, incorporazioni o quant'altro oppure ancora ed è la parte che io preferisco di più e prediligo in qualche modo è quel sistema di pianificazione e di programmazione chiamiamo che l'azienda ci dà nella sua vita ordinaria perché il business plan spesso e volentieri viene utilizzato in momenti in cui dobbiamo accedere a dei finanziamenti dobbiamo trovare dei nuovi soci dobbiamo partecipare a dei bandi per poter ottenere per esempio dei contributi a fondo perduto oppure ancora della finanza agevolata però il business plan diventa un momento quindi diventa la stesura di un documento finalizzato a questo scopo ti faccio subito una domanda così interrompo e mi metto nei panni sempre di chi ci sta ascoltando quindi diciamo così questo documento che è un insieme non solo di numeri ma anche ha una componente descrittiva è la rappresentazione sostanza non solo della nostra azienda ma anche del modo con il quale la nostra azienda crea valore nel mercato quindi crea ricchezza quello che però è importante è per l'appunto l'approccio al dato l'approccio al numero e a quello che noi andiamo a dichiarare all'interno di questo business plan perché? perché spesso e volentieri i dati e i numeri che vengono indicati non sono come per esperienza insomma stiamo verificando non sono ragionati non sono meditati e spesso e volentieri non hanno delle fonti che sono attendibili ricordiamoci che questo documento ha uno scopo spesso e volentieri economico e finanziario ci approcciamo a banche ci approcciamo a istituzioni le quali poi valutano il nostro business plan attraverso i cosiddetti rating ottenere un rating positivo vuol dire ottenere un finanziamento vuol dire finanziare il proprio business e portare avanti un'idea imprenditoriale avere un rating negativo vuol dire naturalmente non avere questo tipo di opportunità il rating non è composto solamente dalla parte chiamiamola così economico-finanziaria ma è anche composto da una serie di indici che valutano i contenuti del nostro business plan per esempio l'analisi del mercato l'analisi dei competitor la valutazione del team che compone l'impresa o il progetto di imprenditoriale e quindi le competenze il fatto che le persone che hanno le competenze siano all'interno dell'impresa e si integreno nell'organizzazione oppure siano esterne siano meri finanziatori di un'idea imprenditoriale tutto questo in qualche modo incide sull'analisi di rating e poi sulla valutazione finale che viene fatta da un soggetto esterno ecco perché tutti i dati tutte le informazioni che noi andiamo ad inserire all'interno del business plan possono sembrare un elenco una checklist ma la vera differenza viene fatta proprio dai contenuti e dall'attendibilità dei dati e delle informazioni che noi andiamo ad inserire all'interno del documento quali sono gli indicatori che dalla tua esperienza possono essere estrapolati dal business plan e che possono aiutare l'imprenditore a guidare la propria azienda? allora gli indicatori fondamentali sono naturalmente i ricavi e i costi di produzione o di erogazione di determinati servizi ma la parte fondamentale più importante è la parte cosiddetta finanziaria cioè la capacità che ha il business di mantenersi e autofinanziarsi anche quando noi accediamo dei contributi o dei finanziamenti esterni come ricordava Mauro Zuccon ieri siamo sottoposti ormai a dei controlli e anche dei vincoli perché il DSCR Index è uno degli elementi che in questo momento ha un po' non dico sconvolto ma quantomeno sta preoccupando tutta una serie di medie e piccole imprese questo tipo di analisi deve essere corretta deve essere onesta soprattutto perché è vero che si porta a casa il finanziamento ma poi la crisi arriva un suggerimento che mi sento di dare è che soprattutto nei business plan spesso e volentieri si vedono i rientri su un determinato business magari in un anno e mezzo due anni su un business plan di cinque anni perché oltre i cinque anni è un po' difficile andare perché poi arrivano degli eventi come questo che ti sconvolgono anche un po' la vita però questi questi contenuti in qualche modo danno l'andamento finanziario dell'azienda durante l'anno la remunerazione del capitale la remunerazione dei finanziamenti però ricordiamoci che c'è un andamento mensile dell'azienda spesso e volentieri questo non attenzione all'andamento mensile porta a delle situazioni o dei mesi in cui l'azienda va in forte sofferenza quindi l'attenzione è quella di costruire proprio una pianificazione finanziaria ed economica mensile come se si trattasse della gestione ordinaria dell'azienda quindi ovvero il proprio bilancio d'esercizio dell'azienda però naturalmente fondato e basato su dati i numeri che riguardano il nuovo business oppure la nuova strategia che l'azienda intende portare avanti questo ci consente di fare innanzitutto un'analisi corretta delle performance che nasceranno dal nostro business e almeno con noi stessi dobbiamo essere onesti e quindi effettivamente capire se è un business per il quale vale la pena investire oppure se è il caso di attendere oppure utilizzare delle simulazioni in diverse opportunità e occasioni sempre naturalmente partendo da dati solidi e meditati per anche magari orientare in modo diverso quella che era la strategia iniziale oggi abbiamo parlato di reti di imprese a volte la rete di impresa è uno strumento che per esempio può essere alternativo alla gestione di un business che individualmente è insostenibile magari invece costruendo una rete si riesce anche a portarlo avanti allora bene ti faccio ti faccio qualche domanda che differenza c'è tra il bilancio che mi dà il commercialista trimestralmente per esempio o mensilmente addirittura per chi è un po' più evoluto da il business plan che differenza c'è tra quello che il conto la chiusura diciamo così del bilancio mensile o trimestrale che mi dà il mio professionista rispetto allo strumento business plan allora come ami parlare tu come si dice con pane e salame io ho un motto personale che chi non è in anticipo è in ritardo il bilancio trimestrale la chiusura trimestrale è un dato consultivo quindi è un dato accertato e di chiusura anticipare determinate situazioni e naturalmente prevederle aiuta l'impresa ad arrivare dei dati consultivi che siano performanti che siano in linea con quelle che sono le aspettative quindi bisogna sempre giocare d'anticipo mai come in questo momento invece bisogna giocare d'anticipo chi non ha un business plan pronto o comunque una bossa di business plan con delle forme chiamavano così di simulazione noi siamo a disposizione per aiutare le persone a dare naturalmente tutto il supporto necessario per creare delle simulazioni su quello che sarà il futuro perché tra un mese quando usciremo e mi auguro prima da questa situazione verranno messe a disposizione soprattutto delle PMI tutta una serie di strumenti a sostegno che saranno strumenti di finanziamento strumenti bancari di proroga delle scadenze sui crediti magari ulteriori rispetto a quelle di adesso non dico che va rivisto quotidianamente perché sarebbe eccessivo soprattutto per le PMI ma va rivisto almeno mensilmente quantomeno per vedere se il business è allineato rispetto al business plan che noi abbiamo redatto ricordiamoci che l'azienda è un organismo quindi è viva ogni quotidianamente ci sono degli eventi che previsti o non previsti che ne modificano l'organizzazione oppure che ne modificano i processi quindi se noi pensiamo di partire con un business plan di tenerlo buono per un anno e poi andarlo a rivedere perde di quella che è la sua finalità il business plan è anche una rotta è anche un faro al quale tendere perché se costruito bene è la nostra strategia di business non è altro che un documento che esprime in modo dettagliato e concreto qual è la nostra strategia qual è la nostra finalità voglio altresì riassumere con te quelli che sono gli aspetti i punti fondamentali innanzitutto il business plan è uno strumento per tutti per tutti coloro i quali fanno impresa che tu sia un libro professionista che abbia una società di persone organizzata un'impresa familiare che tu sia un artigiano con un SRL o qualsiasi società o abbia un'impresa una grande industria il business plan è uno strumento utile a te secondo aspetto importante che abbiamo visto insieme probabilmente tu lo hai già fatto il business plan ma l'hai fatto perché qualcuno te l'ha chiesto te lo potrebbe aver chiesto la banca te lo potrebbe aver chiesto chi ti sta curando e dando la possibilità di accedere a dei finanziamenti ma se tu lo guardi da un punto di vista diverso il business plan deve essere un strumento che serve a te tu devi viverlo in prima persona e avere quindi secondo punto una cultura del numero importante siamo poco abituati a ragionare sui numeri non solo il numero finale ma anche come lo costruiamo terzo aspetto se non sei in anticipo vuol dire che sei in ritardo e questo è per dire la differenza tra la chiusura del bilancio del bilancino che è il mio professionista il mio commercialista o chi mi segue mi fa rispetto a fare un business plan quinto e ultimo passaggio è il business plan è come il mio navigatore mi deve aiutare nella quotidianità chilometro per chilometro giorno dopo giorno per capire se raggiungo l'obiettivo e quindi io vi ringrazio ancora grazie un saluto dalla sede grazie Matteo grazie a tutti grazie a tutti